Ciao eccoci tornati con un nuovo video da Chiang Mai, oggi faremo visita al tempio Wat Fan Tao. Come sempre non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di mettere un like e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sull'uscita di nuovi video. Grazie. In una città piena di templi, il minuscolo Wat Fan Tao nel cuore della città vecchia di Chiang Mai riesce ancora a distinguersi. Splendidamente scolpito in tic, l'edificio principale risale alla metà del 1880 ed era in precedenza parte di un palazzo reale appartenente al sovrano di Chiang Mai. Wat Fan Tao è un bel tempio, ma vale la pena passare un po' di tempo qui soprattutto se stai visitando il vicino Wat Kediluang. È anche un luogo incantevole per assistere alle varie cerimonie religiose ed eventi speciali che si svolgono durante tutto l'anno. All'interno dell'edificio principale in legno, pilastri in tic dipinto sostengono il tetto e guidano lo sguardo verso l'immagine principale del Buddha seduto. Il Vyarn ospita anche numerosi manufatti e antichi manoscritti buddhisti. Gli edifici che si possono vedere oggi al Wat Fan Tao sono relativamente moderni, ma i documenti mostrano che il tempio fu fondato qui per la prima volta nel XIV secolo. A quel tempo, il luogo ospitava anche alloggi per i monaci del vicino tempio di Wat Kediluang. Nel corso degli anni, Wat Fan Tao ha subito numerose ricostruzioni e ristrutturazioni con la struttura principale in legno eretta alla fine del 1870. Il tempio e i giardini circostanti sul retro del Wat Fan Tao sono spesso decorati con bandiere per importanti giorni religiosi ed eventi speciali tra cui Makabucha, Visakabucha, Asanabucha, Songkran, Capodanno e Loikratong. In molte di queste date, la sera si svolgono cerimonie religiose all'aperto con i monaci novizi che meditano su dei tappeti di candele. L'ingresso al Wat Fan Tao è gratuito, ma se vi è piaciuto il tempio o avete scattato il fotografie, potreste voler lasciare un piccolo segno del vostro apprezzamento, 20 baht o più, in una delle scatole per le donazioni. Il Wat Fan Tao apre alle 6 del mattino. L'orario di chiusura è alle 18 della sera. Siamo arrivati alla fine di questo tour al tempio Wan Fan Tao, ci rivediamo in un nuovo video. Ciao!